Intro Ti piace questa intro? La voglio vedere altre mille volte Passo la giornata a guardare l'intro di NiniG NiniG E ciao a tutti i GAMI NiniG, io sono Nina e benvenuti in questo unesimo video da Mi Oggi ragazzi prima di cominciare il video volevo parlarvi un po' dello scorso video Allora, lo scorso video una parte del video non si vedeva, era completamente nero No non era nero, ciao ragazzi, no solo che non si vedeva una parte, la parte finale del video Infatti ragazzi non so cosa era successo, probabilmente è un problema di Youtube Perché siamo andati a controllare il video, è tutto a posto secondo me il problema di Youtube Forse quando l'avevo caricato non ci siamo accorti di qualcosa probabilmente No ma di solito controllo tutti i video, ma quel video fatalità non ho guardato quando l'ho caricato su Youtube Ecco, insomma è venuto fuori errore Sì Quindi scusateci ragazzi ancora e non compiterà più, cercheremo di controllare ogni video che pubblichiamo Sì, e ringrazio anche Giuliax perché subito ha scritto nei commenti e mi ha avvisato Senza delle non me le sarei mai accorti sinceramente Finalmente ragazzi avevo un vincitore dello scorso giveaway Infatti, alla fine del video vi dirò il vincitore del giveaway In questo video vi farò vedere il mio inventario Cioè è da un anno praticamente che gioco a Dotmi E' il mio primo video che ho fatto su Dotmi Avevo solo 12 pet E adesso scopriamo se mi continuano Cioè in realtà io so quanti erano perché erano già contati Però ve li dirò lol Allora cominciamo! Ok eccoci qua ragazzi Sto guardando la mappa dall'alto C'è anche il mio papà ovviamente Ciao ragazzi! Ho un po' modificato con le robe della mappa Ve l'ho già fatta vedere E pian piano continuerò solo un po' signore ragazzi Non c'è veramente ho troppe robe da fare con i miei Questa settimana non sono proprio riuscita a fare niente E comunque ragazzi parlando del mio inventario Allora, questo è il mio inventario dopo un anno Ah è un bel po' di pezzi Un bel bel po' di pezzi dai Sì, è passato praticamente un anno da più dopo Sì Cioè li ho contati contando i doppioni circa 180 Contando i doppioni Sì contando i doppioni più di 160 Però tra specie di pet più di 120 Sì In questo momento su Adobe ci sono circa 185 tra pet e le uova Diciamo che sono veramente tanti E' difficile anche completare perché soprattutto quelli leggendari Quelli rari E' difficile trovarli Però dai insomma 120 pet non sono male dai In un anno ci sta 100 pet praticamente Più di 100 pet si è riuscita a comprare A tradare e riuscendo Comunque Chiacchierando Parlando un po' dell'inventario Ehm Vi siete chiedendo Ma perché ho messo la ladybug Allora Mi sono accorta Che ho solo la ladybug normale E anche La La King B Tipo tra i primi video Ho preso la Vabbè Comunque Non so perché è venuta voglia di prendere Sia un Una lavander Per le api E Del miele Per No Ho sbagliato Madonna Ho appena mangiato Non ho capito un dubbo Ahahah La lavanda Per Ehm Le cucinelle E Il miele Per le api Ecco Brava ladyyyy Finalmente No ma Vabbè Ma Siccome sono questi pet Che Ehm Sono abbastanza carini C'è Perché è troppo cute Ehm Allora Devi andare a prenderli Andiamo? Andiamo? Ci buttiamo? Eh si Aspetta però 3 2 1 Vai Uuuu Ma No No Facciamo così Sono bloccata No No Non siamo riusciti Vabbè Allora prendiamo prima l'ape o la bug Io direi l'ape Beh Come vuoi A te manca un'ape normale vero? Si Un'ape normale quella queen Io c'ho quella king Ah tu hai king vero 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 Allora Allora compriamo Quante mi costava? 199 Dovrei averci Si Credo Si 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 Allora Ok Oh madonna Guarda papi Mamma mia Quante Dai Lancia subito vediamo cosa esce fuori Ok aspetta Chiudo o apro gli occhi? Ma come vuoi Allora Guarda papi Oh Andiamo Ah ok Ah vabbè Che è il vino normale Va bene Ape normale Ma dai ci sta Si va benissimo Cioè almeno non è un doppione Esatto questo non è un doppione Perché tu non ce l'avevi Stranamente l'ape non ce l'avevi Ehm Beh Bello Bella 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 Andiamo a prendere Ladybug Ehm Si Andiamo a prendere Ladybug Diciamo Che carina però che la Ladybug è questa qui di Golden Si Diamond Si Diamond Golden Normal Allora Una su quaranta Possibilità di averla Quattro Quattro Su quaranta Golden E trentacinque su quaranta Beh quella normale Quella che hai avuto la prima volta Beh Proviamo Bene Va bene Vai Allora Chiudo apro papi Chiudi Si Dai Speriamo Allora lanciamo qui a casa Proviamo almeno una Golden ragazzi Sarà veramente molto carino Andiamo 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 ragazzi Mmmmm Un'altra Ladybug normale Ma così hai fatto mmmmm Eh vabbè Eh cucinella è carina Cucinella sono sempre carine Adesso ne hai due vabbè ma arriva a poi tre dare a voler non c'è da polvere ah ma puremmo tre darla? beh se vuoi fare qualche tre giusto per vedere se si riesce a ottenere qualcosa di carino sarebbe bello vediamo do you want this? cosa mi dai? per la loro bellissima che ce l'hanno tutti però non li vanno magari ottimo buongiorno Nutella dammi cosa mi dai? eeeh basta? no aspetta magari posso mettere qualcosa lettamente aspetta le metto un paio di questi si ti vanno bene tre? non so oh oh ho accettato ho accettato ho accettato aspetta aspetta vabbè tanto canine è un sacco ce l'ho anch'io ho accettato beh si accettano va bene la bici doppia non ce l'hai così possiamo andare i giro insieme no non capisco se doppia è doppia si vediamo se accettato ho accettato ho accettato ho accettato grazie thanks vediamo la bici nini allora dai dove sei tu? ah eccoci proviamo la bici subito ragazzi ah eccola il tandem in due ok andiamo vai uh ragazzi che divertimento ah ah bellissimo andiamo verso casa con la bici uh in due con la bici bellissimo oh andiamo al parco oh oh ooo mi sono toccata una ragazza lol eeeh ah 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 come mi piace un gatto ah squirre il ca no mi spiace il gatto non ce l'ho rapi si si sì 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 la accettiamo sì è bello Squid Car mi piace e la accetta adesso che è la gente accetta però la cosa che è oh oh che bello ragazzi l'ho fatta la Squid Car bella la Squid Car vabbè vieni qua e tagliamo questa Squid Car ma cos'è sta roba è enorme ma è bellissima ragazzi annulliamo questa roba descrivere nei commenti, però è bellissima, cioè la gente li può dare una squira al carro beh, devo dire, adesso io non so quanto costa, però è molto carina no, non costa, la ricevi nei gift, c'è poca possibilità ah, ok, però è molto carina, non ce l'hai, è bellissima sì, magari questa potrete darla quando ritornerà quella futuristica, quella lì volante anzi, non credo che tornerà allora, il mio cittadino vi aspettate, allora, mimmi201089 hai ricevuto la pozione ride hai ricevuto la pozione ride eh, devo dire, sì, insomma, è abbastanza bello sei contenta? sì, sono contentissima, questo è bellissimo è bellissima questa carro a te che non piacevano tanto le macchine, le cose, però vedi che alla fine, quali sono le cose carine, non riesci a resistere anche te, vero? sì, c'è tempo cute è troppo cute, guardate ragazzi, è troppo bella questa macchina si, c'erano pure le ombre nostre qui sotto vabbè, bellissimo comunque, spero che questo vi sia piaciuto, se è così cliccate un pollice in su, iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanella per tutto il mio canale e ciao ragazzi, al prossimo video, ciao 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 ciao